Una serata di musica e spettacolo sulle note del grande Renato Zero. E mi vesto di sogno, questo è il titolo dell'appuntamento in programma domenica 7 agosto alle 21.15 nel Chiostro di Santa Caterina al Real Collegio di Lucca. 14 brani per un vero e proprio tributo al cantautore romano, scritto e interpretato da Marco Rossi, assieme a Emanuela Gennai e alle ballerine della Scuola Gaddi Danza. Voglio innanzitutto ringraziare Marco Rossi, il professor Marco Rossi, perché ogni tanto lascia il suo camice per inseguire tutti i suoi eventi. Sarà proprio Rossi a condurre il pubblico in questo viaggio nel repertorio di Zero. Sarà un sogno, un sogno nel repertorio di Renato Zero, che io potrò vivere grazie, come diceva Emanuela Gennai, ai prodigi di una splendida fata che verrà a svegliarmi nel sonno, mentre starò proprio sognando di interpretare il repertorio di Renato Zero. L'evento, inserito nel cartellone Real Collegio Estate, è a ingresso libero. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, numerosi in questo bellissimo chiostro, il Chiostro di Santa Caterina a Real Collegio.